di onorare queste persone, di alzare in piedi questo cartello e invece che un minuto di silenzio perché noi del silenzio siamo stufi, facciamo un grande applauso per queste persone di cui noi ci ricorderemo sempre e per queste persone noi continueremo a combattere perché allora è stata legata a una libertà, ma noi questa libertà ce la riprenderemo a partire dalle mascherine FF22 a scuola che sono illegali, non sono certificate, sono certificate per adulti e adulto professionale e quindi la politica può dire quello che vuole, ma noi decidiamo per noi stessi e per i nostri figli.